Vivo facile, buongiorno a tutti. Oggi parliamo dei miei acquisti natalizi da Lidl. Dovete sapere che io non vado spesso da Lidl, non acquisto spesso generi di tipo alimentare, mentre sono capacissima di perdermi totalmente e di rimbambirmi letteralmente per quello che riguarda gli articoli. Articoli che possono essere appunto per la casa, piuttosto che giocattoli, di cui hanno sempre una vasta fornitura di ottima qualità, devo dire il vero, ma anche appunto di queste cosucce in periodi di festa come quello del Natale. E ora incominciamo. Prima di passare e di iniziare diciamo con la vera carrellata di prodotti, diciamo di articoli di Natale, vi voglio dire che ho comprato questa meravigliosa pasta di Natale che è tra l'altro buonissima. È pasta colorata a tema natalizio, vedete ci sono gli alberelli, i regali, tante cose veramente bellissime. Tra l'altro ovviamente ad ogni colore corrisponderà sicuramente anche un sapore diverso, quindi pomodoro, bietola rossa e spinaci. Quindi vi invito a comprarla perché costa 99 centesimi appunto ed è veramente veramente tanto buona. E iniziamo subito da questi bellissimi imballaggi per i nostri regali natalizi. Dovete sapere che, fatemi sapere se anche per voi è la stessa cosa, per quello che mi riguarda il packaging, il confezionamento dei regali ha un valore importante tanto quanto il regalo che c'è all'interno. Quindi per me è molto importante poter donare un qualcosa di personalizzato alle persone a me care in una confezione che sia una confezione bella, una confezione piacevole, una confezione tipicamente natalizia. E allora ho pensato di realizzare proprio dei piccoli cestini con queste meravigliose ceste in feltro. Guardate la bellezza del dettaglio. Le dimensioni sono veramente piccole perché stiamo parlando di 18,5 di lunghezza per 12,5 per 12,5 di altezza. Quindi sono dimensioni piuttosto ridotte ma vanno molto bene secondo me per creare dei piccoli regali di natale soprattutto con cosmetici di qualità o con qualcosa che appunto magari i nostri cari apprezzano. Ho trovato questo, vedete c'è solo mi sa questa fantasia perché vedete che sono uguali quindi con questa renna che si dirige verso la sua diciamo casetta, la sua stalla, mi piace tanto tanto e con questo fiocco di natale. Tra l'altro io adoro il feltro perché è un materiale morbido ma è un materiale con cui si possono fare veramente tantissime decorazioni molto belle. E poi vabbè io questo qua lo amo, l'avevo già visto lo scorso anno e non lo avevo preso, mi è rimasto come dire in gola, mi è rimasto fermo lì e quest'anno dovevo prenderlo. Questo costa circa 3,5-4 euro a trenino e anche questo in feltro, guardate che meraviglia, è proprio bello. Io qui andrò a mettere sempre dei cosmetici, poi vi farò vedere le mie confezioni regalo, ve ne parlerò e niente lo adoro, mi sembra molto molto carino. Ne ho presi un bel po' di questi. Per quello che riguarda invece i gioielli che io andrò a regalare ai miei cari, li metterò, ovviamente sono nella loro scatoletta, ma li metterò all'interno di queste bellissime piccole pochette, sempre fatte in feltro, quindi morbidissime. Vedete c'è anche il dettaglio come se fosse una lettera, il franco bollo, direttamente ci arriva questa lettera da Santa Claus, quindi è proprio carino, mi piace tanto. Tra l'altro ha due colori molto belli, non soltanto il rosso che è un classico, ma anche il grigio, che secondo me è strepitoso. E appunto qui dentro io andrò a mettere questi gioiellini, io ho preso per mia suocera in particolar modo e per una mia nipote, rispettivamente un bracciale ed una collana, una collana dove ci sarà il nome di mia nipote e il bracciale di mia suocera l'ho fatto fare con il simbolo dell'infinito e i nomi dei suoi figli. Mi sembrava un regalo carino, insomma. Io amo fare doni personalizzati, mi piace anche nel piccolo, rimanendo comunque in regali abbordabili come cifre, perché di parenti qui ce ne sono tanti, però voglio che chi riceve il regalo sappia che io ho pensato direttamente a lui o a lei, quindi che si ritrovi un qualcosa che rispecchi un po' le sue aspettative, il suo modo di essere, la sua persona. Non faccio quasi mai regali del tutto uguali, c'è sempre un tocco di diversità, di differenza tra un regalo e l'altro, appunto un tocco di personalizzazione, perché mi dà molta soddisfazione che le persone si sentano amate attraverso il mio regalo. E poi appunto questo è importante tanto più che siamo lontani noi da io, mio marito, dalle nostre famiglie, quindi quando ci vediamo vogliamo proprio donarci qualcosa che all'interno di cui ci sia proprio tutta la mancanza che abbiamo sentito per i nostri cari. Se siete amanti dei calendari dell'avvento, e qui non parlo solo di bambini, ma parlo anche di tutti noi che amiamo essere comunque sempre un po' bambini a Natale, non potete farvi mancare questo albero in feltro appunto da appendere con tutte le varie caselline, con i taschini. Questo è secondo me meraviglioso, perché lo potete riutilizzare ogni anno e potete all'interno dei taschini mettere una piccola sorpresa ogni giorno. Sorprese anche diverse, quindi a seconda poi dell'età, nel mio caso è per i miei bimbi, quindi può esserci la caramellina, può esserci il giochino, può esserci magari un bigliettino con una proposta di attività da fare insieme, un dolce, quindi si può personalizzare un po' come si vuole, ma anche per un adulto, perché no? Con uno smalto, un rossetto, un piccolo profumino, un bijou, insomma lo fate un po' come volete e poi ripeto è bello perché lo potete veramente riutilizzare di anno in anno, senza andare quindi a ricomprarlo ogni volta e mettendo veramente quello che sapete essere gradito. Le dimensioni sono 108 x 67 cm, io ne ho preso uno così e uno così, guardate che spettacolo questo grigio con Babbo Natale sul top, quindi mi piace veramente tantissimo, a forma di Babbo Natale, è proprio bello e anche questo io non mi ricordo ragazzi scusate ma io sui prezzi faccio molta fatica, io penso di averlo pagato sui 7 euro, non vorrei dirvi una sciocchezza ma non credo di più, sicuramente meno di 10 euro e secondo me li vale tutti perché è molto bello, perché è appendibile e perché ripeto va riutilizzato, quindi è qualcosa che voi vi portate poi e negli anni, quindi una spesa che si ammortizza come si suol dire. E ora passiamo all'abbigliamento per bambini, c'è veramente di tutto in questo periodo, tema natalizio, ci sono i leggings che però sono secondo me un po' troppo sottili, anche se piuttosto come dire morbidosi, però sono molto sottili quindi io non li metterei ai miei figli in questo periodo, però ragazzi ho trovato questi maglioncini in poliestere, quindi sono materiali sicuramente sintetici, costano circa 9 euro, però guardate che meraviglia. Questo qua è la versione da maschietto e questa la versione da femminuccia, non ci sono solo queste fantasie, ci sono anche altre fantasie sempre con le luci, ad esempio per bimbe c'era anche quello con l'albero di Natale che si illuminavano tutte le lucine color rosa, insomma potete sbizzarrirvi, però è veramente molto carina, io questa la metterò proprio in questo periodo, quindi i miei bimbi l'hanno già vista, l'hanno già visti questi prodotti e si sono emozionati, erano felicissimi di questo naso che si illumina per 9 euro, ne vale assolutamente la spesa, sono molto belli. Poi il marchio è Lupi Lu, che è un marchio veramente molto valido, molto molto valido per quello che concerne gli indumenti, i vestiti. E altro consiglio che vi do, queste bellissime calze, che oltre ad avere delle fantasie molto belle, vedete qui abbiamo sia per maschi che per femmine, guardate questa col fiocchetto e il fiocchi di neve, proprio belli, questi invece sono per maschietti, sono veramente molto molto calde, sono realizzati in puro cotone, cosa che per me è fondamentale, perché io direttamente sulla pelle non amo né per me né per i miei figli i tessuti sintetici, quindi o c'è qualcosa sotto di cotone oppure non ne prendo, cioè se c'è qualcosa che va direttamente sulla pelle io preferisco non prenderne. Questi sono in puro cotone e sono spessissime, sono proprio calze termiche, quindi vengono molto molto utili in questo periodo, assomigliano come consistenza ai calzini antiscivolo ma non sono antiscivolo, quindi sono calzettoni belli spessi, che vanno proprio bene non solo per dicembre ma anche poi per gennaio e febbraio, che qui, devo dire la verità, picchia veramente duro. E poi, cioè ragazzi, ma secondo voi io potevo non prendere questa scatola di latta? No ragazzi, ditemelo un po'. Questa scatola di latta che sarà sicuramente un perfetto giocattolo per il mio bimbo, dove poter mettere poi all'interno anche tutti i suoi personaggini, però, ora vediamo se riesco ad aprirlo perché con una mano faccio un po' fatica, ok, beh anche il contenuto non è male. Questi sono i famosi biscottini cioccolato e zenzero. Hanno un gusto molto particolare ma molto buono, sono proprio i classici biscottini da Natale. Ma oltre alla bellezza di questo, vedete di queste immagini, c'è appunto un autista con il suo direi garzone, mia figlia dice il papà con il suo figlio, però ecco alle ruotine così in latta. Poi abbiamo anche, sorpresa delle sorprese, il carillon. Ecco, lo adoro. Tra l'altro i carillon hanno diverse musiche. Io questa canzone tipica di Natale ne ho trovato uno solo, che è la mia preferita. Però ce ne sono tante altre. Io ho visto che sono andate a ruba queste scatolette perché poi sono ritornata per prenderne delle altre ed erano quasi finite. Io però vi consiglio assolutamente di prenderle perché fate secondo me un bel regalo o a qualcuno o a voi stessi. Perché poi le scatole di latta, lo sapete, io sono una fanna canita, vengono bene in qualsiasi occasione proprio come contenitore per altre cose. E poi ragazzi, questa ha veramente tutto. Ha una bella forma, ha un bel carillon. Chiaro, non vi aspettate un carillon con una definizione ultra. Però, per il prezzo che l'ho pagato, veramente li vale tutti e anche di più. E poi, non ultimo, il contenuto. Ma lì io non sono un amante dei dolci, quindi non è che me ne porti più di tanto. Però, ecco, questi biscottini sono proprio anche lì un regalo particolare che potete fare per Natale perché sono dei dolcetti un po' diversi che in altre stagioni non si trovano. e niente. Prima di lasciarci vi voglio ricordare anche alcune altre cose che ho visto nel caso magari vi venisse utile. C'erano delle bellissime decorazioni delle palline trasparenti all'interno delle quali voi potete mettere la foto di una persona. Può essere una persona della vostra famiglia, può essere il vostro animale domestico. Quindi c'erano anche tutte queste decorazioni molto carine da Lidl, appunto, dove inserire la foto. Quindi palline personalizzabili con foto. Io vi ringrazio per avermi seguito. Spero che questo piccolo video possa magari essere utile a qualcuno che sta cercando un po' di questi prodottini sfiziosi per il Natale. Vi ringrazio come al solito di cuore di seguirmi con affetto e vi rimando ad un prossimo video. Ciao!